Si sente già il profumo del caffè, il caffè che sta venendo su sulla mocca e quindi vuol dire che Sono le 7 del mattino ed è ora di iniziare una nuova giornata e lo facciamo insieme, lo facciamo leggendo, sfogliando i giornali, leggendo, commentandoli anche perché no e lo faremo tra pochissimo Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, iniziamo dal Santo di oggi e poi vediamo il tempo Oggi è Sant'Alessandro di Alessandria, il sole è sorto alle 6.52 e tramonterà alle 17.57 Esplode la primavera con l'anticiclone africano ma nel fine settimana ci sono alcune novità All'inizio di marzo l'Italia tra l'alta pressione e infiltrazioni fredde ma c'è comunque questo caldo anomalo in Italia con punte di oltre 20 gradi Insomma lo abbiamo visto tutti, lo abbiamo sentito sulla nostra pelle, la primavera ci sta facendo trascorrere queste giornate davvero belle e anche piacevoli Anche perché se non fosse per questo anticipo di primavera il resto è un disastro Nel senso che prepariamoci alla lettura dei giornali di questa mattina perché sono e mettono subito di cattivo umore Quindi se siete già col morale a terra spegnete pure la televisione, nessuno si offende e ascoltatevi un po' di musica Per tutti gli altri c'è la rassegna con i giornali che adesso andiamo a vedere Intanto cominciamo dal Carlino Di Pesaro Il Carlino Di Pesaro ha fatto notizia di oggi, è per l'allenatore, il coach della VL appunto che ha il Covid Repesia è positivo, non so dove l'ho preso Poi scuole superiori chiuse, stop screening, didattica a distanza da domani al 5 di marzo nelle Marche Polemica, in città saltano i tamponi di massa E poi ancora sulla questione del Covid Andiamo verso la zona arancione, ordinanza valida da lunedì Dunque si cambia, nuove restrizioni Poi la cronaca, studente placcato in strada, spunta un macete Due vigili urbani a Pesaro restano feriti Tra via Boito e via Guido d'Arezzo è stato arrestato un giovane Poi malattia fatale per il notaio Giuseppe Ferri, morto a 81 anni Sotto la foto di questa ragazza, ex olgettina Truffa soltanto tentata, per lei una pena di 3 mesi L'intervista alla sottosegretaria a Coto Quanta responsabilità la pentastellata è al Ministero del Lavoro? Ho l'esperienza del job di Pesaro, dice lei E poi la vicenda dell'inchiesta, anzi al porto di Pesaro Che mette in allarme i compratori Stoppa i lavori dopo l'intervento della Procura Che fine faranno adesso i nostri appartamenti? Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesaro Centro pagina, la fotonotizia è per Matteo Ricci, sindaco di Pesaro Che rilancia sui test, sugli screening ai genitori Prosegue dunque nonostante lo stop che vedremo tra poco arriva alla scuola Lì c'è infatti, la presenza non c'è più Da domani fino al 5 di marzo sarà didattica a distanza al 100% in tutta la regione Nuova ordinanza di acquaroli, contagi e terapie intensive I numeri peggiorano la regione destinata a cambiare colore E diventare dunque arancione Sempre da Pesaro, qui di spalla la storia che riguarda un gattile Che sta fermando di fatto i lavori sul fiume Foglia Il fiume, o meglio i lavori che vengono fermati appunto per salvare gli animali Assembramenti nell'entroterra, controlli e anche un arresto ad Urbino Poi gira con il macete, studente aggredisce due vigili Arrestato, Pesaro graziata all'olgettina Non fu estorsione, condanna a tre mesi Verifiche sismiche di taglio basso 11 affidamenti della provincia Solo 7 giorni per le offerte Ma qualcuno fa incetta dei lavori L'ordine degli ingegneri invia una formale lettera di protesta Allora cominciamo, diamo uno sguardo Vediamo un po' com'è la situazione nelle Marche Situazione che sta purtroppo peggiorando Da questo punto di vista non c'è molto da sperare Sulla colorazione che fino ad oggi è ancora gialla Ma probabilmente diventerà appunto arancione Ma è la scuola in questo momento che tiene banco Anche sui giornali Da domani abbiamo detto Fino a venerdì 5 marzo torna la didattica a distanza Oggi il governatore Acquaroli firmerà l'ordinanza Con cui chiuderà le scuole superiori in tutta la regione Marche Mentre nelle due province diciamo più colpite Ancona e Macerata Dove i contagi all'interno delle classi Hanno preso una piega preoccupante Ebbene in questi due territori Non solo le superiori ma anche la seconda e la terza media Chi fa la seconda e la terza media Quindi a Macerata e in provincia di Ancona Provincia di Macerata e in provincia di Ancona Anche gli studenti che frequentano la seconda e la terza media Dovranno restare a casa fino al 5 di marzo Per tutti gli altri come dicevo c'è per le superiori La didattica a distanza al 100% Ora in quarantena in tutta la regione Marche Ci sono 333 classi in questo momento Su 10.492 Quasi 6.600 gli studenti in isolamento In presenza invece si continuerà a frequentare i laboratori Pensiamo a quelli appunto che devono fare per esempio L'alberghiero, cucina, sala eccetera Non è che possono fare sala a casa Devono per forza essere in presenza e nei laboratori Per loro si andrà avanti E così anche per gli studenti disabili O che comunque hanno bisogno di sostegno Per quanto riguarda invece L'ue di primo marzo Prenderà avvio nelle Marche La profilassi con il vaccino AstraZeneca Per il personale della scuola Quindi dal primo di marzo Ci sarà il vaccino per professori e quant'altro Per tutte le figure che riguardano la scuola Senza limiti di età Non è come gli altri che devi avere più di 80 anni Lì non c'è problema di età Si comincia, anzi si va a In qualche modo Sovrapporre i vaccini degli ultraottantenni Con quelli per la scuola Però il primo di marzo La regione ha confermato l'inizio della vaccinazione Del personale scolastico Il problema qual è adesso? Sempre per quanto riguarda La sorte delle Marche Nella prossima settimana Che saremo arancioni Non perché c'è un indice RT Che supera l'1 Così come parametro No Anche questa settimana I dati confermano Che siamo sotto anche di poco Anche se di poco Ma sotto l'1 Quindi non è quello Siamo a 0,98 E soprattutto il superamento Della soglia limite Delle terapie intensive Cioè aumenta il numero di coloro Che vengono intubati Il numero dei contagi Che continuano ad aumentare E la progressione Verso l'alto Dei casi sintomatici Cioè di coloro Che sentono febbre Che hanno febbre Che hanno tosse Che hanno raffreddore Che hanno tutti i sintomi Che riconducono al coronavirus Bene Anzi male Acquaroli In questo momento Pare essere rassegnato E dunque Vede la regione Nuovamente arancione E questo Nonostante i provvedimenti Che nelle ultime settimane Sono stati presi Anche a livello provinciale Per cercare di frenare Il covid Insomma Niente da fare Tutto questo Non è assolutamente Servito a nulla Anche perché Lo ricordiamo Fino allo sfinimento L'unico DPCM Che deve entrare In azione L'unica ordinanza L'unica ordinanza Che deve scattare È quella Dentro la nostra testa Se non scatta L'ordinanza Dentro la nostra testa E continuiamo a fare Quello che ci pare È chiaro che Il virus Continua a Mietere Vittime Continua a Contagiare Perché il virus Fa il suo levò Fa il suo mestiere Noi invece No E tutto questo Lo si vede Dai dati A chi è stato Ecco Poi un'altra notizia Invece Che andiamo Di nuovo Sul Corriere Adriato Un'altra notizia Interessante A pagina 4 Del Corriere Di oggi Parla Della profilassi Ora Questo fate attenzione Perché Chi è stato Già infettato Dal coronavirus Chi ha già preso Il coronavirus E da più di sei mesi A queste persone Sarà somministrata Una sola dose Di vaccino Senza bisogno Del richiamo Chi invece L'ha contratto Più di recente Dovrà attendere Quindi Chi lo ha preso Il coronavirus Meno di sei mesi fa Per queste persone Al momento Non lasciamo lì Buoni Dovete soltanto Aspettare Chi invece Si è contagiato Dopo aver fatto La prima iniezione Quindi uno Fa il vaccino Ha fatto il vaccino ieri Oggi ha preso Il coronavirus Non dovrà rifare Il richiamo Questo è Una sintesi Del documento Che è stato Elaborato Stanno elaborando Per lo meno In queste ore All'Istituto Superiore di Sanità E dovrebbe servire A fare che cosa? Per accelerare Un pochettino I tempi Perché Con questa Modifica Della profilassi Del vaccino Ci sarebbe Un'accelerata Nella campagna vaccinale Perché sapete Che la campagna vaccinale In Italia Sta andando Malissimo Va bene Ora Malissimo in che senso? È troppo lenta È troppo lenta Non Non riusciamo A stargli dietro L'assessore Saltamartini Cosa dice? Siamo stati costretti A diluire L'operazione E quindi E quindi Tutto va A rilento Poi a gettare Benzina sul fuoco Ci ha pensato Anche Dagli Stati Uniti Un Virologo Massimo Clement No Vabbè Comunque Che dice A mia madre 94enne Che vive a Iesi In provincia di Alcone È stata assegnata Una prenotazione Per la vaccinazione Il 5 di aprile Che tra l'altro Il giorno di Pasquetta Trovo questo Insultante Nei confronti Degli anziani L'aspera critica Affidata A un post Su Facebook Non arriva Da un qualsiasi figlio Preoccupato Per i tempi Decisamente lunghi Della somministrazione Ma da Massimo Clementi Eccolo sì Direttore del laboratorio Di microbiologia Virologia Dell'ospedale San Raffaele Di Milano Il quale dice Dice poi alla fine Se volete leggervi L'articolo di Marina Martina Marinangeli Il quale dice Dice Parliamo solo di varianti Attenzione Parliamo tanto Anzi Non solo Parliamo tanto Di varianti Ma mi viene il sospetto Che sia un alibi Attenzione In Israele Il 100% Del virus Che circolava Era la variante inglese Ora con le vaccinazioni È sparita Ci sono le varianti Perché non stiamo vaccinando Ad una velocità Adeguata Capite? Qual è Il problema? È chiaro che il virus Deve vivere È una sua esigenza Primaria Deve sopravvivere Sta facendo di tutto Per continuare a vivere Noi cerchiamo di ucciderlo Ma lui giustamente Vuole vivere E cosa fa per vivere? Si modifica Continuamente Varia 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 Finché appunto Non Non arriviamo noi Con Il vaccino Che Lo Uccidiamo Però se noi Il vaccino Non lo facciamo Lo facciamo con Lentezza Chiaramente Lui ha tutto il tempo Per organizzarsi Lui Il virus Ha tutto il tempo Di organizzarsi E di modificarsi E dove si modifica Soprattutto adesso Come vedremo Tra i giovani Che adesso Sono i più colpiti Arrivano in ospedale Con le polmoniti E record di tamponi E contagio Escalation E pronti soccorsi Ecco un'altra pagina Siamo Ieri Pensate Nelle Marche Solo ieri 732 persone Trovate positive È il secondo valore Più alto Di casi Dell'anno Dopo quello Registrato Il 5 gennaio Scorso Il 5 gennaio Scorso Ne avevamo 743 Oggi 732 E la metà Quasi la metà Di questi contagi Il 41,9% Ovvero 307 persone Contagiate Solo nella provincia Di Ancona Dove circola La variante inglese A peso rubino 83 E poi via via Gli altri 76 a fermo Eccetera Quindi L'emergenza Urgenza Adesso è dettata Dal numero Dei nuovi ingressi In ospedale D'accordo Ora andiamo invece A vedere la pagina nazionale Del resto del carlino Pagina 4 Anche qui Noi abbiamo visto Fino adesso Com'è la situazione Nelle Marche Ma tanto per farvi capire Com'è la situazione Invece in giro per l'Italia Ecco il titolo Impennata di contagi Più 20% In una settimana E torna l'allarme Per le terapie intensive Il report del Gimbe Le spie rosse In 41 province Sull'incremento Dei nuovi casi Pesa anche la campagna Di vaccinazione Al rallentatore L'occupazione Dei pazienti Covid Supera in 4 regioni La soglia Del 40% In area medica Ora sul picco Dei contagi Pesano non solo Le varianti Ma anche la lentezza Di messa a regime Di una vera campagna Di vaccinazione Di massa Ci sono difficoltà Organizzative E una situazione Molto diversa Da regione a regione Non a caso E' stato somministrato Solo il 14% Delle dosi AstraZeneca Destinate persone Fuori dagli ospedali E dalle RSA Come insegnanti E forze dell'ordine Che hanno Meno di 65 anni Ora Questo virus Che ormai Ci tiene compagnia Da più di un anno Sapevamo Che prima o poi Dovevamo avere Questo vaccino Sapevamo tutto Eppure Pare che E' arrivato ieri E che ancora oggi Non sappiamo cosa fare Quindi Capite che Cioè E' tutto questo Sulla pelle della gente Vaccini Gli spazi non bastano Torniamo Nella provincia Di Pesaro Urbino Perché Qui A pagina A pagina 2 Angelica Panzieri Scrive Sulla questione Dei vaccini Che adesso Gli spazi Non bastano più L'unica sede Che funziona Sembra essere Diciamo La più adatta È la sede Di Fano La sede Del Codma Di Fano Dove ci sono Degli spazi Idonei Gli spazi Che servono Ma a Pesaro Si ipotizza Adesso di utilizzare Anche un capannone Un capannone Industriale Un capannone industriale Dove fare Questi vaccini Perché solo Alle cellette Non si va Da nessuna parte Intanto Poi ci si prepara A dare il via Alla somministrazione Delle dosi Per il personale Scolastico Come abbiamo visto Poco fa Il primo di marzo Si parte Con i vaccini Per coloro Che Lavorano In ambito Scolastico Poi Anche qui Ci sarebbe da ridire Non si capisce Perché Siamo in emergenza Parliamo di guerra Parliamo di su Parliamo di giù Poi Leggiamo Non c'è l'accordo Con i medici Per gli anziani Non autosufficienti Ora Ma di che accordo Stiamo parlando Siamo in guerra Stanno aumentando I contagi Non sappiamo più Dove sbattere la testa Ci aspetta un'altra Pasqua Da reclusi Dentro casa E ancora Stiamo a parlare Di Non c'è accordo Regionale con i medici Ma che accordo Vuoi prendere Santo cielo Voglio dire Se siamo in guerra Prendi e parti Cioè Voglio dire Non c'è storia Scusate se mi Inalbero un pochettino Ma credo di essere E di fare un pochettino Agitandomi un po' Anche di Riflettere Quello che sta succedendo Nelle vostre case In questo momento Cioè un commento Che penso sia Normale Ancora parliamo Di accordi Cioè Allora O siamo in guerra Oppure siamo in tempi Di accordi Ecco Gli accordi si fanno prima Quando sei in guerra Sei in guerra Punto E allora Siamo nella pagina Di Cinque Ancora Del resto del Carlino Incubo Varianti Fanno ammalare I giovani Eccola qua Questa è un'altra notizia Che chiaramente Deve preoccupare Perché Perché l'infettivologo Marcello Tavio Dice I ragazzi Sono il veicolo Principale Del virus E questo Già l'avevamo sentito In ospedale Registriamo però Adesso Un aumento Delle polmoniti Ora Tavio È il presidente Della società italiana Malattie infettive Che paragona Le fiammate Del Covid-19 A una guerra Vedete Ecco Anche lui Dice Paragona Le fiammate Ad una guerra Ora Se siamo ad una guerra Io Non l'ho fatta Grazie a Dio La guerra Ma Nel senso Se siamo in guerra A un certo punto Gli schemi Li facciamo saltare Oppure Andiamo ancora lì Con la marchetta Da bollo A dire Adesso Ce la devo attaccare Se no Questo non si fa Non è una guerra Allora Non parliamo di guerra Si presentano Questi giovani Al pronto soccorso Con segni e sintomi Di polmonite I giovani Dovrebbero evitare Di darsi pacche Sulle spalle Di aggregarsi Nei modi Che vediamo Nei video Della movida Quindi Il problema qual è Non è tanto A scuola Il contagio Non avviene Tanto a scuola Anche se ci sono Tutte le classi In quarantena Perché il contagio Avviene fuori Dalla scuola Quando sono a scuola Effettivamente I professori Gli insegnanti Maestre Maestre Sono tutti Molto attenti Quindi anche Gli studenti Tengono Almeno dicono Le mascherine Insomma Sono tutti Belli ligi Quando si esce fuori È il patatrac Ora Poi nelle case Molti I contagi Avvengono Nelle case Ancora Non avete Non è entrato Nella testa Che è inutile Se avete Facciamo un esempio Se avete Un figlio Che va a scuola Un marito Una moglie Che vanno a lavorare Fuori Eccetera E poi la sera Vi riunite O a pranzo Vi riunite Ma la sera Vi riunite A cena A tavola Come se nulla fosse È chiaro Che se uno lì È positivo Si ammalano tutti Allora Anche dentro casa Si cena Uno a tavola Uno in soggiorno E uno Se necessario Pure nella tazza del water Perché altrimenti Non se ne esce più Questo Lo so che può essere Come dire Una cosa Fuori di testa Ma questa è la realtà Perché altrimenti Il virus Non guarda Se sei in famiglia Se sei al ristorante Se sei Luna di miele Guarda semplicemente Dove può Attaccarsi Questo Più di così Non si sa Come Come dire Andiamo avanti I contagi I contagi A pagina 3 Sul resto del carlino Volano Le marche Sono sotto scacco Scuole superiori Chiuse per una settimana Didattica Distanza Al 100% Da domani a venerdì Salta allo screen in città È polemica Zona arancione Verdetto Verdetto In arrivo La regione Chiude le superiori Ricci rilancia Nuova indagine Accordo con L'università di Urbino Per uno studio Epidemiologico Sugli adolescenti Con un questionario Definiti Tempi e organizzazione Secondo screening 6.000 tamponi Coinvolti I genitori Dei più piccoli Ora Ricci porta avanti La sua Idea La sua strada A una regione a parte Pesero È una cosa a parte E va bene Anzi tra l'altro Ricci sarà ospite Qui In diretta Lunedì sera Alle 21 A Primo Cittadino Quindi sarà una puntata Molto interessante Anche perché Ricci In questi ultimi tempi Sta dando frecciatine A destra E manca Anche alla regione Nei confronti della regione C'è la questione Del PD Del suo partito Che non sta Andando benissimo Insomma ci sono molti temi Al di là di quelli locali Che chiaramente Sono interessanti Da sviluppare Lunedì sera Andiamo sulla pagina di Fano Troppe oscenità In centro storico Occorre una bella ripulita SOS Decoro Dopo Zacchigli E Brunori Interviene nel dibattito Cittadino Paola Fazzi Docente Che dice No a bibite e merendine Sotto l'arco d'Augusto Va bene Oh signor mio Va bene Niente merendine Niente bibite Sotto l'arco d'Augusto Sotto la statua di Cesare Sì Sotto l'arco d'Augusto No Due novità Turismo trainante Promozione solo per l'Italia Secondo Varotti di Confcommercio E questo è il contributo Del consulente Che ha intervenuto Tra l'altro Noi abbiamo registrato Se non ricordo male Anche uno speciale Che nei prossimi giorni Vi faremo vedere Sono temi interessanti Si parla di turismo Di turismo Ma ad alti livelli Di programmazione Ad alti livelli Per quanto riguarda La città di Fano Fano non è mai Così rappresentata Nelle istituzioni Fano ha Tanti rappresentanti Al governo Molte attese Per Accoto La senatrice Rossella Nel governo Draghi Sotto segretario Il lavoro Ma Ruggeri La investe Di un ruolo Influente Anche per la Fano Grosseto E Fano Urbino Aspettative pure Del sindaco E congratulazioni Alla senatrice Anche dal PD E dalla Lega Nuovi itinerari Per promuovere Il tesoro Dei borghi A Colli al Metauro I borghi storici Diffusi Un'iniziativa Di confesercenti Con il comune Di Colli al Metauro Tramite Tukitur Poi sotto La rivincita Sul covid Di Maya Dance School I maestri ballerini Di Bellocchi Si fanno valere Nella prima gara Internazionale Dopo un anno Sul permesso Di soggiorno 400 euro Poi Chi riscuote Scappa via Ne parla Giovanni Giovannelli Della Cisla Sindacalista Che dice In aumento I sedicenti esperti Che promettono Servizi vari Che richiedono Poi lo speed Mentre Sulla pagina Di Pesaro Del resto del calino Si parla ancora oggi Di queste Abitazioni Di queste Costruzioni Di questo progetto Che è stato fermato Dalla procura Di Pesaro Ora i nostri appartamenti Che fine fanno E allarme Dopo l'inchiesta Sull'ex consorzio Costruzione delle due torri Con 74 abitazioni Tre indagati I timori Dei compratori Intanto emergono Nuovi dettagli Sulla vicenda Placcano uno studente Spunta un macete Nella zona campus Di Pesaro Un 19enne Regisce alla municipale Viene bloccato Lì si scopre Che è armato Due agenti feriti Uno Con un mese Di prognosi Poi La polizia Ispeziona Alla zona del mare Perda la vita A 49 anni Graziano Baldini Era in un'abitazione Quando si è sentito male Inutili soccorsi Arrivati sul posto E un altro malore A Senigallia La guida Muore durante i soccorsi La vittima È il 56enne Michele Cioccolanti Di Monsano Che era a bordo Dell'auto aziendale I passanti hanno avvisato Il 118 Dal Corriere Valle Foglia Pesaro Montecchio Urbino In metro La regione apre Il progetto di Ucchielli Incontro con FRI Per il potenziamento Delle infrastrutture Si lavora Ad un anello ferroviario Per unire Le due valli Entroterra Rischio assembramenti Controlli su 60 persone Con un arresto Pattuglia Lavoro Su Fermignano E Urbania Chiesta la revoca Dei servizi sociali Per un 58enne Poi invece A Cantiano Cantiano in piazza Per l'ultimo Commosso addio A Fausto Perrioli 57enne Morto nel bosco Colpito Da un pezzo D'albero Valle del Metauro Lavori partiti Ben sette mesi fa Ma l'ospis A Fossombrone Tutto fermo Il centro-sinistra Lancia l'allarme Dopo l'appalto Per il raddoppio Dei posti letto E ancora Dalla Val Cesano Lanciato il progetto Terre Martignane Sull'opera di un genio Del rinascimento E poi Repeggia Lo sport Che resta a guardare Ci sono due pagine di sport Parliamo di due allenatori Lo dico subito Repeggia da una parte Coronavirus Mentre dall'altra La notizia incredibile Che ha lasciato davvero di stucco Quasi certamente in panchina Quasi certamente in panchina Con la sua squadra Perché Appunto Risultato Positivo Lui dice Dove l'ho preso onestamente Non lo so Anche perché Non ho incontrato Nessuno Ma dicevamo E qui Siamo sui due giornali Carlino E Corriere Questo è il Carlino La pagina di Macerata La lube Silura De Giorgi Ammutinamento Nello spogliatoio Si va verso il ritorno Di Blengini Colpo di scena Dopo il KO In Europa Il coach Accusato Di troppa Durezza Ma Credo che La cosa interessante Da leggere Se è questa A me dispiace moltissimo Che se ne sia andato De Giorgi Lo stimavo E lo stimo ancora Tantissimo Persona straordinaria Ma A spiegare Che cosa è successo E lo fa in maniera Esemplare Spettacolare Senza fare una piega È Giulianelli Fabio Giulianelli Che è amministratore Delegato di Cucine Lube Che dice La nostra Sembra una squadra Anarchica Attenzione Anarchica E senza ardore Dove ogni atleta Gioca per se stesso C'erano situazioni Di scollamento Tra giocatore E allenatore Non più sanabile Arriverà l'allenatore Che avevamo in mente Per la prossima stagione Ovvero Blengini L'attuale allenatore Dell'Italia Di volley Prendere decisioni Crea sempre stress E una grande responsabilità Ma se hai delle convinzioni È meglio decidere subito Che magari Rammaricarti Del fatto Che l'avevi previsto Comunque a Fefe De Giorgi Dice ancora Va tutta la mia riconoscenza E l'affetto immutato Per tanti trofei Portati alla Lube E De Giorgi Davvero Di trofei Questo allenatore Questo campione Nel campo E fuori campo Ne ha portati Davvero tanti Vi saluto Vi ricordo Che alle nove Avremo L'appuntamento Con il cardinal Raniero Canta la Messa La presenza Di Papa Francesco Alle nove Ci saranno le prediche Trasmetteremo la predica Per la Quaresima E poi Questa sera Invece Parte la nuova stagione Di esplorare i confini Del Circolo Bianchini È interessante Perché parleremo Di astrofisica Con Francesca Faedi Che è una cacciatrice Di pianeti Pensate un po' Ci vediamo stasera Alle 20 e 30 Con il telegiornale Arrivederci